Consiglio regionale rinviato questa mattina dalle 11 alle 12, poi ancora posticipato alle 15, in cui il tira e molla che negli ultimi anni ha esacerbato il dibattito in aula sull'approvazione del bilancio di previsione. Lo spettro dell'esercizio provvisorio quasi certo per le opposizioni e poi al termine della giunta a fiume di questa mattina una presa di coscienza collettiva sulla necessità che tutti maggioranza e opposizione adottino un atteggiamento di responsabilità che potrebbe concludersi invece con l'approvazione del bilancio, in una corsa contro il tempo, di cui è lunedì 31 dicembre, domenica compresa. Approvazione sinuna per nulla scontata per l'oscillazione del numero legale condizionato dall'atteggiamento dei tre consiglieri cosiddetti ribelli, Donato di Matteo, ex PD e Andrea Gerosolimo e Mario Olivieri di Abruzzo Civico, tacciati di non rispettare il loro ruolo istituzionale. L'attacco delle opposizioni è a un documento miope che non pensa ai cittadini. Un bilancio che non guarda la sanità al sociale, non ci sono fondi ulteriori per il trasporto pubblico regionale, non ci sono fondi per il turismo, non ci sono fondi per le aree interne, per i piccoli comuni, non ci sono fondi per l'ambiente. Un bilancio completamente ingessato, un bilancio miope che non guarda gli interessi collettivi e generali dei cittadini abruzzesi. Tra l'altro sulla procedura è un bilancio che non è stato discusso in commissione, un bilancio che non arriva in consiglio col parere della commissione, quindi non è stato approvato in commissione bilancio. È una grande stranezza, è un grande problema. È un bilancio che molto probabilmente non sarà nemmeno approvato in consiglio regionale per mancanza della maggioranza e quindi si rischierà di andare in esercizio provvisorio, esercizio provvisorio che comprometterà la vita dei cittadini abruzzesi perché non ci sarà possibilità di andare a intervenire su sanità sociale, turismo, ambiente, aree interne, piccoli comuni. Insomma è chiaro che questo bilancio è un atto espressamente politico, l'atto principale di un governo regionale, è chiaro che i 16 li devono garantire loro. Poi non possiamo mai votare un bilancio né far passare un bilancio come questo. È un bilancio che non dice nulla, un bilancio che non porta risposte alle tante criticità che oggi ci sono in Abruzzo, eppure è un bilancio che risente di una opera di sanamento che abbiamo fatto noi con il governo precedente che peraltro ha portato ad uscire dal commissariamento della sanità, ha portato alla riscrizione di alcune voci importanti. Quest'anno peraltro c'è una vendita di un bene immobile da parte della regione per cui c'è un incasso importante che potrebbe essere utilizzato per dare alcune risposte. Nulla di tutto ciò.